alfo adesso ho capito perché mi ha dato la mccano volevi viaggiare aperto e ho preso questo brutto vizio lo scorso weekend con la f8 spider e questa è la nuova portofino m dove m sta per modificata il che vuol dire che è stata un pochettino esasperata dal punto di vista delle prestazioni e non ho saputo resistere come va quest'auto va veramente bene e ci puoi portare anche i figli quindi è perfetta direi ma me la dai e vabbè per questa volta oggi tocca a lei la portofino m modificata in ferrari quando mettono la m si parla di prestazioni migliorate i designer hanno puntato su modifiche di stile volte a sottolineare il carattere sportivo ecco allora iniziamo a parlare proprio di design nel frontale le prese d'aria laterali cambiano forma diventando più efficaci la calandra a nuove stecche in alluminio con sfaccettature a contrasto nuovo il design dello sfogo d'aria all'altezza degli archi ruota che è utile a ridurre la resistenza aerodinamica complessiva sul posteriore c'è un nuovo impianto di scarico che ha consentito di rimuovere la scatola dei silenziatori con conseguente riduzione degli ingombri ne deriva uno snellimento complessivo del paraurti nuovo anche l'estrattore d'aria completamente ridisegnato che a seconda il carattere sportivo infine anche i cerchi in lega sono stati riprogettati e oggi hanno degli effetti chiaro scuro che sono decisamente intriganti ora parliamo di interni un trionfo di pregiata selleria italiana è ereditato dalla portofino da cui derivano anche l'impostazione dei volumi e delle funzioni una sciabolata centrale in alluminio corre orizzontalmente suddividendo la plancia in due aree il display dedicato al passeggero appare quasi galleggiante questo display che tutti i passeggeri che salgono sulla portofino m adorano gli sembra di guidare un po in posizione centrale poi troviamo un touchscreen da 10.25 pollici e sotto di lui un bridge realizzato in carbonio che collega visivamente la strumentazione con il tunnel centrale su questo bridge troviamo da una parte il pulsante dedicato a inserire la retromarcia e dall'altro quello dedicato al launch control il propulsore discende dalla famiglia di v8 che è stata vincitore del best engine of the year per quattro volte consecutive e su quello della portofino m sono state ridotte le emissioni grazie a un nuovo filtro antiparticolato è stato eliminato completamente il silenziatore la cui funzione è stata rimpiazzata da un bypass modulabile che continua però a garantire l'iconico sound ferrari è un'auto che può essere silenziosissima o quasi utilizzata in modalità comfort e sembra invece un'auto da pista messa in modalità race lavorando sulle prestazioni è stata recuperata la potenza persa per il nuovo filtro antiparticolato ma addirittura sono stati regalati a questa portofino m 20 cavalli nuovi anche gli alberi di distribuzione che hanno migliorato il rendimento il tutto viene gestito dal cambio automatico a otto rapporti va detto che il turbo leg rimane assente e il range di coppia è stato esteso a 5.750 giri al minuto parliamo della dinamica di marcia debutto su questa portofino m per il nuovo manettino a cinque posizioni wet comfort sport race e desk off che disattiva tutti i dispositivi elettronici il focus sul race che è dedicato al fan to drive permette insomma all'auto di scodare un filo ma quasi sempre in sicurezza anche se ve lo diciamo per mettersi al volante di una ferrari sarebbe giusto farsi un bel corso di guida almeno uno due anche meglio parlando sempre di dinamica di marcia il variable boost management trasmette al pilota il miglior feeling di accelerazione il pedale del freno è più corto in termini di lunghezza dell'attuazione e anche più modulabile lo sterzo esalta la distribuzione dei pesi che è ottimale perché sono due auto in una da una parte un coupé e dall'altra uno spider in pochi secondi esce il tetto retrattile metallico dal bagagliaio e questa portofino si trasforma in una vera coupé diamo anche qualche numero di questa portofino m il motore è un 8 cilindri avuti 90 gradi da 3855 cc è in grado di erogare 670 cavalli e 760 newton metro di coppia per una velocità massima che è superiore ai 320 km orari il cronometro viene fermato in soli 3,45 secondi sullo scatto da 0 a 100 che diventano 9,8 sullo scatto da 0 a 200 all'ora ben un secondo in meno della portofino da cui deriva attenzione però parliamo anche di frenata andando a 100 km orari bastano 32 metri per fermarsi completamente d'altra parte i freni in carboceramica sono di serie la nostra prova di oggi della portofino m finisce qui alfo cosa ti posso dire mi è piaciuta e anche tanto